Ed ieri la notizia che al G7, dal 13 al 15 giugno prossimi, parteciperà anche Papa Francesco in presenza per la sessione dedicata ai paesi non membri, la cosiddetta Outreach, nella quale si discuterà di intelligenza artificiale. A dare l'annuncio è stata la Premier Giorgia Meloni, con un video postato sui social. Io credo che sia fondamentale valorizzare il meglio della riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la Rome Call for AI Ethics, un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di algoretica, ovvero dare un'etica agli algoritmi. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso promosso dalla Santa Sede, portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del Vertice in Puglia. A Fasano arriverà il Pontefice per la prima volta, così com'è inedita la partecipazione di un Papa alla riunione dei sette capi di governo, Stati Uniti, Canada, Italia, Germania, Giappone, Regno Unito, Francia. Papa Francesco parlerà ai grandi della terra sull'intelligenza robotica, lui che ha dedicato due dei più importanti documenti di quest'anno, il messaggio del primo gennaio e il messaggio sulla giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'attesa del G7 si fa così più premurosa. Lo si evince dalle parole del primo cittadino di Fasano, Francesco Zaccaria, avvicinato ai nostri microfoni. L'ufficio stampa della Santa Sede ha confermato questa notizia, sarà qui in presenza. Questo ovviamente ci riempie di felicità. Noi ovviamente ci auguriamo che oltre alla presenza del G7 possa organizzare, possa immaginare un'attività collaterale che ci consentano anche di incontrarlo e di farlo incontrare alla città, ma ovviamente è presto per dirlo. Il sindaco che si fa portatore delle istanze dei cittadini, cosa direbbe a Papa Francesco? Immaginare cosa poter dire davanti a Papa Francesco è sempre molto complicato perché sono certo che l'emozione prevalrebbe su ogni altro sentimento. E' chiaro che mi piacerebbe trasferire l'affetto e l'abbraccio di tutti i fasanesi e raccontargli un po' della nostra città che è una città bellissima e che in questi anni è tanto cambiata e magari apprezzerebbe.